Il cantiere del futuro Urban Center è il primo passo concreto. Inizia a prendere forma il nuovo volto della caserma Rossani, l'ex immobile militare diventato di proprietà comunale dal 2009. Dopo anni di attesa sono iniziati i lavori nella porzione situata tra Via De Belis e Corso Benedetto Croce e che entro la fine dell'estate permetteranno la nascita dello Urban Center. Il centro della cittadinanza attiva e delle associazioni che si occupano di rigenerazione urbana e che attualmente casa nel Fortino Sant'Antonio troverà spazio nell'ex palazzina Spogliatoi, un edificio ormai fatiscente disposto su 200 metri quadri circa e con un'annesta zona verde di 1262 metri quadri. Alla posa virtuale della prima pietra ha partecipato il sindaco Antonio De Caro, insieme agli assessori Vincenzo Brandi, al patrimonio Carla Tedesco, all'Urbanistica e Giuseppe Galasso ai lavori pubblici. La palazzina sarà completamente ristrutturata, consolidata e dotata di servizi igienici, accessibili anche dall'esterno per i fruitori delle prime aree attrezzate a verde. L'area esterna infatti è stata progettata in modo tale da potersi relazionare al futuro parco urbano, studiato dall'architetto Massimiliano Fuxas. Oggi è una giornata storica per tutti i baresi, spiega soddisfatto De Caro, perché finalmente parte la riqualificazione di un'area di straordinaria importanza per la città. Entro fine anno sarà bandita la gara d'appalto da 10 milioni di euro messi dalla regione Puglia per la ristrutturazione verso la parte nord di altre due palazzine, le future sedi della Teca del Mediterraneo e della Mediateca regionale.